Siamo al punto che la destra, il centrodestra, comincia a fare i conti con quella che è stata la sua tradizionale base elettorale. Molte di queste persone sono persone che alle ultime elezioni credo gran parte hanno votato per loro. Nel momento in cui si trovano a togliere quell'esezione IRPEF la prendono piuttosto male. Se si aggiunge a tutto questo è vero che il nostro governo si è candidato contro, molti dei partiti si sono candidati contro l'Europa, non tutti perché Fratelli d'Italia, Forza Italia effettivamente no, e poi i trattori considerano e scoprono l'Europa come Europa matrigna quando vedono che il governo in fondo con l'Europa ci va d'accordo, incominciano a nascere altri problemi. Ma la verità sai è un'altra, al di là dell'IRPEF, al di là dei pesticidi, al di là di tutto quello che diciamo in Europa. Il punto è semplice, non riguarda nemmeno questo governo, ma non è mai possibile che chi coltiva la terra in questo paese, ma anche in Francia, ma anche in Spagna guadagni così poco quando noi consumatori paghiamo così tanto i loro prodotti nei supermercati. Perché è questo il punto vero della vicenda, non ci sarebbe bisogno di esenzioni IRPEF, vantaggi eccetera, se tutte queste persone guadagnassero il giusto. Io mi chiedo, la grande distribuzione fa i giusti profitti.